Non fate l'errore di guardare da qua un mese perché a fine mese arriva lo stipendio, ma pensate, pensate a quello che succede, 2035, lo ribadisco, e dopo domani, non ve ne rendete neanche conto che il 55% di voi potenzialmente può trovarsi a sperare che qualcuno mi dia un reddito per sopravvivere che poi mi toglierà facendomelo spendere in medicina. Dunque, cosa è successo venerdì? Venerdì ero in auto e stavo andando a una cena organizzata da Evald dove c'erano persone legate al mondo cripto, io ero seduto vicino a Luca che gestisce delle chat Telegram, Igor che gestisce i meetup Bitcoin Vicenza, insomma, tutte persone legate al mondo cripto. Adesso non ti metto il titolo, eh? Scusate. Dunque, tornando indietro, io ero ispiratissimo e nel viaggio in auto mi sono venuto un sacco di idee per questo live, diciamo, per questo video. E chiaramente non è che potevo scrivere. Cosa ho fatto? Ho iniziato a mandare dei vocal a Michele che mi ha trascritto sotto forma di appunti tutto quello che c'è. Quindi, ve lo dico onestamente, adesso devo un po' leggere oltre che guardare quello che sta succedendo. Quindi, lo premetto per un fatto di massima onestà. E ringrazio ovviamente chi permette tutto questo, no? Per me è una fonte d'orgoglio enorme. Cioè, siamo un team meraviglioso, io non nego, mi trovo da Dio. Siamo consapevoli, proattivi. Avete sempre dimostrato, prima di chiedere, disposti e focalizzati sul portare valore e la ricchezza come conseguenza. In un ambiente del genere, è chiaro, non posso non far bene. Non posso non far bene, perché quando hai gente così alle spalle, puoi far solo che bene. Quindi, grazie principale, va a voi e va a Michele. Perché chiaramente la faccia è la mia, però la faccia e quello che esce da sta faccia è grazie a chi c'è dietro. Quindi, grazie enorme al lavoro che fate. Vi torno appunto in una vita. La ricchezza si muove, ok? Si sposta. Non vengono bruciate le banconote, non spariscono i soldi. Io sono dell'idea che è un diritto di tutti stare bene. Vivere in quella che recepiamo come abbondanza è nell'autodeterminazione. Se qualcuno ci toglie, ok, e noi glielo permettiamo, a quel punto dipende in grossa forma da noi. È inutile lamentarsi. Lamentarsi non serve. E questo è un errore di tutti. Tutto ciò che non è autodeterminazione, quindi ciò per cui non siamo geneticamente predisposti, perché noi nel nostro DNA abbiamo questo, l'autodeterminazione, salvo degli impedimenti fisici per i quali non ci procuriamo cibo e moriremo. Semplice, no? Lo riduco all'essenza genetica. È lì il punto focale. Perché vi dico questo? Perché questa sarà la chiave di volta per quello che vedo nel futuro, chiaramente. Oltre che iniziare a mettere degli stop loss su queste posizioni. Venerdì mi è partito questo spunto perché ho conosciuto, non conoscevo nessuno io, lo metto, partevano, delle persone legate al mondo della finanza tecnologica, delle cripto, degli investimenti, della tecnologia, ognuno con la sua storia. Tutti questi avevamo in comune il fatto che siano partiti da zero. Nessuno è figlio di ereditieri, cardinali o altri potenti. Cito Paolo Villaggio. Ognuno aveva la loro piccola storia di autodeterminazione. E questo succede in quasi tutte le persone che mi circondano. Il link comune, in quel caso lì specifico, era non le cripto, era la decentralizzazione. Era, diciamo, andare a riappropriarsi di determinate risorse. Ogni volta che io mi relaziono con persone del genere, che sia nel bene o nel male, vedo subito la differenza, no? Chi ho nel gruppo di pari? Gli autodeterminanti. Chi si lamenta, si dà un basso valore, si attribuisce un basso valore, e sono persone che difficilmente io trovo a determinati tavoli o hanno determinate storie da raccontare. Quindi si screma subito, si screma subito. Evalda è una situazione assolutamente non facile. Io non sono mai riuscito a vedere un'espressione triste sul suo volto e non ho mai sentito lamentarsi. Questo mi conferma che, e questa è la strada giusta, ok? Perché le cripto, in questo caso specifico, sono un mindset. È una forma di vita. Alla base hanno un fortissimo investimento sulla crescita e lo sviluppo personale, sulla consapevolezza di sé, su dove vuoi arrivare, come vuoi arrivarsi. E questo è stato confermato. Anche dalle loro storie. A me fa piacere vederle queste storie qua. Poi io con Evald approfondisco, chiaramente. Lui lavora con Julian Osp. Se non li conoscete, andate su internet e vedete cosa hanno fatto. È la loro storia. E non è un caso che ottengano determinati risultati. Uno dei loro dettami, che lui ribadisce più volte, come lo ribadisco anch'io, è l'importanza di dire di no. Saper dire di no. Punto. Non è difficile. L'importanza di agire, di fare, di formarsi, stare a passo con i tempi, spegnere la tv. Nessuno delle persone che raggiungono risultati pari, di livello pari o superiore al mio, ha la televisione. Ok. Anche questo non può essere un caso. Julian, ogni tre mesi, adesso io non so, spero che non sia una cosa segreta, ma se è detta cena penso di no. Lui ogni tre mesi prende il team e gli dice, ok, qual è il tuo prossimo obiettivo? Cos'è che vuoi imparare? Dove vuoi migliorare? Dove vuoi crescere? Cosa ti può mancare per arrivare al tuo prossimo obiettivo? E lì, dove può ovviamente, dove serve, chiaramente aiuta. Stessa cosa che io dico agli studenti. C'è qualcosa che non sai, cazzo, trovi modo di saperla, appunto. Non devi neanche stare troppo a pensarci, no? Non deve rappresentare un freno dove vuoi arrivare, ok? E questa cosa è fighissima nel vederla applicata sugli altri. Io ho incontrato di persona, con l'occasione che andavo in Verona, anche due ragazzi dell'Inner Circle. Uno dei due aveva, perché presumo pian piano le stia rimando, delle carenze informatiche. Penso normali, io sono il primo ad averle, ok? Autonomamente, quando io ho chiesto con me come stai, mi ha detto, ho acquistato un corso di informatica, un corso di Excel. Punto. Fai i corsi, si dà da fare. Era lento nel gestire determinate cose, ma a livello informatico ha colmato il gap. Basta. Cioè, senza purtroppo star lì a parlare. Fare. Qual è l'obiettivo? Cos'è che mi rallenta? Via. O lo rimuovo o lo scavalco. Una delle due. E chi capisce questo fa la differenza. Probabilmente la ripeterò lo sfinimento, questa cosa qui. Tutte le persone che voi vedete, che usate come modeling, che prendete come esempio, che raggiungono risultati, che portano valore, che sono persone di valore, hanno una reputazione di valore, non fanno le cose per avidità, ma le fanno per migliorare l'ecosistema in cui vivono e in cui vivranno i loro, i nostri figli in generale. Tutte queste persone, sottolineo tutte, hanno passato ore, ore, ore e ore a leggere, a formarsi, a conoscere, a informarsi, a pulire. A disinterferire, a dire di no, a focalizzarsi. Che poi, uno lo faccia nel trading, uno lo faccia nella DeFi, uno lo faccia nel commercio, uno lo faccia nell'online, Amazon Marketing, quel cazzo che è. Indifferente alla base, c'è questo, arrivi. Non c'è questo, non arrivi. Stop. Il mondo cambia, si evolve. Al momento in cui noi abbiamo i mezzi per riappropriarsi delle risorse e permettiamo a qualcuno di venirci da prendere, basta. Se mi vieni a pisciare nel giardino, ti vedo una volta, la seconda volta non lo fai più. Questo è il punto. Dipende che valore vi date, no? Io lo vedo confermato sempre dal mio gruppo di pari. Questo, se io riesco a trasmetterlo a più persone riesce ad arrivare questa cosa qua, più autodeterminazione ci sarà. La disciplina che voi sceglierete per farlo sarà legata un po' alla passione, ok? o a competenze acquisite, però di base c'è questo mindset qua, punto. Poi ci possono essere scorciatoie, come nel caso delle crypto e della nostra academy, come mille altri percorsi a seconda del settore, però se tu non le abbini a questo tipo di mindset, non servono a niente. Se invece hai questa testa, otterrete chi ha questa testa, ottiene risultati e prescinde dal contesto politico, geografico, via dicendo. Una cosa importante, sulla cui magari torneremo, sono i Millennium Goals. Adesso non ve lo spiego adesso, vi do questo input, poi vi farò vedere anche il link. Io me li sono letti quest'anno, quelli del 2035, ed è grave la situazione a livello di robotica, di quello che succederà, ok? Millennium Goals è la forma di pianificazione, diciamo, maggiore a livello mondiale di clienti sovrastatali per riallocare le risorse, ok? Il concetto di scambiare tempo per denaro è un concetto che pian piano andrà svanendo, quasi per la buona parte delle professioni. Loro parlano del 55% delle professioni attuali che verranno sostituite dai robot e si prefiggono come obiettivo, dopo il 2035, arrivare a distribuire a livello mondiale una base di reddito, diciamo, di sopravvivenza, di sussistenza. Poi, insomma, non entro nello specifico su come vogliono farlo, magari lo farò, se avete interesse scrivete. Insomma, lo manifestate e magari lo faccio anche, senza nulla togliere alle mie priorità. Proprio stasera siamo segate a biondo dio. Ok, tante cose che per noi sono automatiche, che voi associate a una persona, le farà un robot, le farà un'intelligenza artificiale. E molto probabilmente le farà meglio di come le farebbe un uomo e nel 90% dei casi costeranno anche meglio. Chi capisce adesso questa cosa qui, in futuro, saranno quelli che avranno beneficio e valore e quando ci saranno lockdown puttanate varie, stapperemo champagne perché continueremo a fare record su record. Semplicemente non perché sia un fenomeno, ma perché abbiamo capito questo. Basta. Quasi tutto potrà essere sopperito dalla tecnologia, purtroppo. E questo ce l'ha insegnato Lockdown. Tutto quello che è l'insegnamento, l'allenamento, le riunioni, la gestione, qualsiasi cosa, si muove l'informazione, non si muove la persona. Lo puoi fare con un monitor e una linea internet. Trovi il modo di avere un pezzo di terra, un vaso, qualcosa, una fonte d'acqua, paradossalmente possiamo essere tutti autodeterminanti da casa. E l'hanno dimostrato quando ci hanno messo il museruolo e ci hanno detto, fate i carcerati a casa vostra, a spese vostre. E questo è la base per non farsi prendere per il culo. Secondo me non è consapevolizzato, nella tezza delle persone, che siamo di fronte a qualcosa che spazzerà via tutti i concetti che i nostri genitori avevano. Il posto tempo indeterminato in una banca, villetta schiera, bicicletti in giardino, due figli e due realizzato. Questa cosa qua non esisterà più. Non esisterà più. Chi ha un punto fisico di vendita, chi fa azioni ripetitive, replicabili, determinate professioni dove non ci vuole un estro particolare, quelle cose lì vengono spazzate via, spazzate via completamente. Questo video qua riguardatelo tra dieci anni e ci scommetto quello che volete, che non mi sbaglio. Ma è normale, si chiama evoluzione. Molto probabilmente, per quelli che sono lavori meccanici, anche di precisione o non solo, ma per meccanici intendo paradossalmente far una pizza, saranno costi inutili se c'è un'alternativa. Questo perché lo stesso Stato che ci toglie le risorse, ho paura che vado lungo, quindi chiuderò su da prima parte, quello stesso Stato ovviamente, parlo dell'Italia nello specifico, abbiamo un costo del lavoro altissimo, col paradosso che all'azienda costa tantissimo e al dipendente arriva una minchia, detta breve. Questo per cosa? Per alimentare un sistema Ponzi. Ok? A me questa cosa non va bene. Ed è un paradosso. Abbiamo un costo altissimo con una remunerazione bassissima. E siamo un paese di cazzo di geni, perché lo dimostra la storia, no? Chi capisce che bisogna arrivare a una consapevolezza facendo pulizia e dicendo dei no, facendo azioni forti, dei cambiamenti, investendo tanto, tanto tempo in formazione, guardare video, informarsi, leggere, capire, stare lì, è uno scazzo? Sì, ok. Però quando avete un scambiate tempo per denaro, vi chiamano, vi dicono ciao, lo fa una macchina al posto tuo, sei a casa? A quel punto lì dici, cazzo, se tutti gli aperitivi, tutte le puttanate che mi sono messo a fare, quel tempo lì lo impiegavo in una determinata maniera, adesso probabilmente ero a sta perduttivo. Questa è la differenza tra il visionario e no. Come vorrei chiudere questo primo video? Perché vi farei vedere, ho tipo un foglio di aperitivi. Questa cosa qua, ok. Fissa un obiettivo in base alla tua consapevolezza, no? Quindi capisci se questo obiettivo lo proietti, ti porterà del valore, del benessere, quando io faccio i conti in palestra con i ragazzi, dico, ok ragazzi, prendete una potenziale equity line, proiettatela su determinate cifre, modellatela un po' e capite se quello che remunera può andarvi bene per stare bene. La libertà di scegliere, l'auteria, quello a cui bisogna arrivare. E' chiaro che non devo deciderlo io, deve deciderlo chi è consapevole di investire il proprio tempo per determinati risultati. E questo parte dal valore che ci diamo. Perché è importante arrivare alla consapevolezza? Perché con la consapevolezza nel cervello entra un concetto che è la ciclicità. Il concetto alla base della vita stessa c'è la ciclicità. perché si nasce e si muore, c'è il giorno e c'è la notte, c'è il sole e c'è la pioggia. Chi si rende conto e vive questa cosa qua saranno le persone che trascineranno la ripresa. Per chi ha visto Matrix, quelli che staranno a Sion. è normale che quando l'onda è decadente o cala la notte non si vive bene. Però cazzo, è quando l'onda è in discesa che lì devi nutare, 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 nutare a testa bassa per farti trovare ben posizionato sulla tavola quando parte l'onda crescente. La stringo in francese. Se non mangi la merda quando sei con la testa nella pozzanghera non capirai mai cosa vuol dire respirare l'ossigeno. Quindi, iniziare a togliersi e fare azioni volto un obiettivo. Investendo tempo e risorse. Spegnere le tv e fare. Perché sta cosa qua, ragazzi, 2035, dopo domani, punto. Non fate l'errore di guardare da qua un mese perché a fine mese arriva lo stipendio. Ma pensate, pensate a quello che succede 2035, e lo ribadisco, e dopo domani. Non ve ne rendete neanche conto che il 55% di voi potenzialmente può trovarsi a sperare che qualcuno mi dia un reddito per sopravvivere che poi mi toglierà facendomelo spendere in medicina. Non è paradossale il film Matrix. Adesso come adesso mi rendo conto sempre di più. Questo è il punto. Chi nuota a testa bassa quando l'onda è calante è chiaro che sono quelli che guardano quando l'onda è crescente. E qua che purtroppo le persone si fermano. Vuoi per pigrizia, vuoi perché le nuove generazioni sono un po' abituate al fatto che ci pensa qualcun altro, che ci pensa su un telefono, che tutto è dovuto, che i nostri genitori sono stati nel benessere e per noi è un atto dovuto il benessere, avere dei soldi, delle risorse e col cazzo ragazzi, col cazzo, questo ve lo dico, c'è tanta gente, voi non avete idea del culo che deve farsi e pagare per colpe di altri. Di fronte a queste persone qua io mi tiro giù il cappello, punto, imparo, ok? Tutto ciò che avete voi dovete ringraziare per ciò che avete perché non avete idea di cosa c'è intorno a voi. Non siete capaci di fare questo, prendete, andate in un reparto dell'RSA, vi fate un giro e vedete le persone che sono lì dentro e dopo tornate a casa e leccate il suolo dove camminate, ok? Anche se è una capanna. Questa si chiama gratitudine, consapevolezza, intelligenza di vita. È chiaro che persone che sono così è molto facile che nel mio gruppo di pari sopravvivono e si cresca assieme perché sanno cosa vuol dire l'autodeterminazione. Punto, è semplice. Questi ragazzi qua che vedete, adesso io non so se vostro nonno era un riccone, però nessuno vi ha regalato niente voglio dire e se siete qua è perché siete andati a prenderli e sicuramente non vi mettete a dare spiegazioni a chi vi poteva dire ma cosa fai sta cosa in internet ma i corsi le cripto non è reale ve ne siete sbattuti i coglioni e siete andati punto. Questo vale tantissimo non pensate perché voi avete sta testa che vi sia dovuto guardate fuori parlo a voi ma parlo a tutti guardate fuori l'80% delle persone va in giro con le museruole ok è convinta che sia vero tutto quello che una scatola con uno schermo vi dice questo è tristissimo perché questo è il mondo dove io spero per ancora parecchi anni devo viverci dove vivrà blu e dove vivranno figli, nipoti quello che sia quindi semplicemente dargli sta merda qua anche no vuol dire riappropriarsi di certi valori per capirlo o tocchi il fondo con la mano o sei intelligente sei un visionario ascolti chi è già passato e muovi il culo questa è esattamente la differenza che contraddistingue il visionario il raggiungitore dei risultati l'autodeterminante da tutto il resto delle persone che vanno in giro a lamentarsi o a cercare alcol qualsiasi cosa che possa stordirli e farli vivere nella non consapevolezza questo non vuol dire non gratificarsi io sono il primo a dire gratificatevi ognuno a modo suo lo può e lo deve fare questo è un atto dovuto però gratificazione significa gratitudine quindi vuol dire che devo devo aver dato tanto per permettermi di ricevere questo studio della lingua italiana potrebbe essere utile detta da francese o muovi il culo prima di ritrovarti tra le macerie perché poi è veramente difficile tra le macerie farlo su una billetta schiano tante di queste storie che io ho indirettamente o non citato le vedrete all'evento all'evento parleranno sì tutte praticamente le persone con cui stiamo crescendo anche dal punto di vista direttamente del trading e non solo vedrete ospiti di un certo tipo eccetera eccetera cosa fa adesso lo youtuber ricordatevi di attivare la campanellina iscrivetevi mi piace supportate il progetto però sei esperto come? però sei esperto devo capire dove va il mercato devo guardare il 85% di chi non vive di sta roba comunque al di là di ciò insultatemi fate quello che volete se io riesco ad attivarvi anche un piccolo semino sono già contento se lo condividete la vostra coscienza vi dirà grazie domani perché date la possibilità alle persone di poter sapere che c'è un'alternativa che c'è un'alternativa di poter